Il caffè opportunamente tagliuzzate e non so se posso dire la marca tagliuzzate ed applicate una ad una su un abito di base bravissima Nicole i gusti delle cialde è evidentemente diversa l'effetto luccicante e frusciante è Michela che ci fa vedere questo abito Michela Michela, dici la verità da 1 a 10 in questo momento quanto ti senti contenta? 8 e quanto imbarazzata dalle scemenze che dico? 4 come 4? dovresti essere imbarazzatissimo quindi non sto dicendo scemenze sufficienti rincariremo la dose con valere mentre la parte esterna è stata tessuta unendo ad uno ad uno i fondi delle bottiglie quelle dell'acqua minerale e in pratica ogni bottiglia rappresenta un fiore la borsa, eccola qua, è realizzata con la stessa tenda in infuga una domanda come è stato fratello? bene, grazie viaggio di nozio? benissimo ottimo scusate, un momento privato e volevo sapere quanti gradi in questo momento ci sono all'interno del tuo vestito? troppissimi ma tanto ignifugo quindi non corri nessun rischio un prossimo vestito ce lo presenta Eleonora si intitola Primavera i fiori della gonna sono ritagliati a bottiglie di plastica di varie bibite di colori diversi e poi sono sagomati a caldo il top è ricavato con i sacchetti di plastica tipo quelli di un noto supermercato che vende mobili verso Milano e la borsa facciamo vedere questa borsa è una borsa stile cestino che è ricavata con il telone quello dei camion e contiene tutti i fiorellini fatti con la borsa che bellezza bravissima, ciao è realizzata con il supporto per i fiori per la rete per i rampicanti dell'orto i fiori ricavati dalle bottiglie di plastica dell'acqua minerale e delle bibite scrosciano questo è un vestito ideale sia per il sole che per la pioggia vedete è dotato di un ombrellino anche questo adornato con i fiori di bottiglie di plastica diciamo che se non volete passare inosservati questo è il modello che fa per voi attenzione Lisa attenzione Lisa perfetto grazie per l'ombrellata grazie 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 ecco bravissimo gli elettrici avanzati ogni filo è attaccato alla fodera del vestito con un piccolo bottone l'unica attenzione da prestare è alle prese elettriche quindi attenzione in fondo anche la collana che indossa Lorenza è realizzata con i cavi elettrici il prossimo abito ce lo presenta una emozionatissima serena Prato di Girasoli abitino verde con decorazione di pizzo realizzato con sacchetti per i rifiuti sacchi neri per l'ingondizio sono stati lavorati con una particolare tecnica di taglio fino a sembrare dei pizzi non correre, non correre se no ti faccio le domande vai con i sacchi per la raccolta differenziata della plastica questo abito è ispirato alle sirene di Ulisse la rete dell'abito è lavorata all'uncinetto utilizzando le strisce dei sacchi il bracciale il bracciale il motivo a rete di questo abito ricorda proprio il mare ringraziamo Clelia con un applauso ed ora rivediamo gli ultimi sei modelli in passerella in passerella Bravi a tutti, soprattutto Margherita Prossimo abito, Laura ci presenta L'abito è realizzato con i sacchi di juta per le patate Ed ha un sapore particolarmente estivo I papaveri sono stati realizzati con i teloni per tenso strutture E il fiordaliso con la plastica delle bottiglie Molto carino anche il bouquet L'abito è particolarmente leggero e fruttato nel profumo E ha realizzato con le retine di frutta e verdura No, 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 le retine sono quelle dei limoni, delle zucchine Ma il corpetto in cosa è realizzato? Piano Antonella che sono cadi Sul vecchio abito da sera modificato ad occhio Sono stati applicati i fiori realizzati con i tappi delle bottiglie e delle bibite Il collo è adornato con le retine dei limoni e delle arance E adesso Antonella ci canterà la canzone Vedete questo effetto estremamente voluminoso, soffice Come per l'abito iniziale in cartigenica dove si sperava che non piovesse Qui c'è da stare attenti alle fiamme libere Sempre su questa La maestria Non so neanche se dire sarte perché qui fanno cose incredibili È paragonabile quella dei maniscalchi medievali Che ricordano attrezzi semplicissimi Che riuscivano a produrre le cotte di maglia E questa rete ricorda Maestria questo tipo di lavorazione Realizzato con il truccio di chips di polistirolo Che normalmente sono usati per gli pallaggi Anche il bouquet Con lo stesso materiale Se volete sposarvi e lasciare il segno Questa è la scelta che va per voi Nessuno potrà dire Non me lo ricordo Questo abito si ricorda di sicuro Ovviamente dobbiamo rivederne solo tre Perché con gli strascichi Rimane molto più difficile A ripassare Con lo stesso materiale Eccoli qua Bellissimi questi ultimi tre abiti La condizia Sambientemente indagliati E la particolare lavorazione del sacco Dall'impressione di un vaporoso fizzero La borsa E la rinunca Con uno spoglio La guanna è stata realizzata con le spugnette per l'imballaggio E l'originale bouquet E' realizzato con i cifri polistiroli Bravi Simpatiche E soprattutto molto pazienti Con il presentatore C'è stato realizzata con le spugnette per l'imballaggio E' realizzato con i cifri polisti 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 Non ci resta che fare un applauso ai nostri Francesco e Giulio. E si esibiranno che loro giustamente è una passerella. E mentre Francesco e Giulio si fanno ammirare sulla passerella vorrei invitare qua sul palco, se non si nascondono qua dietro, venite sul palco a farvi applaudire. Forza! Le realizzatrici di questi splendidi modelli. Eccole, eccole! Arrivano! Non fatele timide! Fuori, 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 fuori! Eccole qua! Un applauso grandissimo a tutte queste artiste perché non c'è un altro termine per definirvi. Complimenti vivissimi! Grazie a tutti!